Le ultime notizie Che è successo? Cosa è successo? Che succede ragazzi? Ci sono degli zombie della nostra città Vengiamo di stare a casa e chiudere le finestre alle porte Non lasciate le vostre case No vabbè ragazzi non è vero sicuro? No ragazzi è vero l'ho letto è tutto vero Vero o falso? Che ci importa ragazzi? Degli zombie stupidi Sì sì io ne credo Io ho visto molti zombie nei giochi Stas dietro di te Oh no Oh mio dio Chiudi chiudi raffario La porta chiudiamola La porta Aiuto Via 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 Cosa è successo? Stas? 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 Mi hanno morso Oh no Oh mio dio Questo è pessimo È molto pericoloso Stas Cosa c'è di pericoloso? Sono stato morso da un cane molte volte quando ero giovane Non c'è nessun problema Sto bene no? Che schifo È bello che tu sia lontano da me No tutto bene ragazzi Nessun problema Sono in salute La salute è la cosa più importante La salute è la cosa più importante Non preoccupatevi Basta non c'è nessun problema Non è sicuramente un grosso problema Un morsetto Non so Niente di che No Sei sicuro di stare bene? Non c'è problema Lo posso sopportare Ah A parte il sangue che non si ferma Stas Proverò a cercare informazioni Fratelli Non possiamo lasciare le cose così Ok Accendiamo la tv Guardiamo qualcosa Gelshow o qualcosa del genere Ok Aspetta da fare una cosa molto seria Forse Dimon ha ragione ragazzi Va bene ragazzi Niente panico Solo un morso Perché fate così? Ok ho trovato qualcosa Vediamo Qui dice i sintomi che hanno i zombie E che hanno un tempo di reazione ridotto Riduzione del tempo di reazione Ma sto bene Lascia perdere Dimon Guardiamo Gelshow Amico passerà Non lo so Non lo so ragazzi Credete o no agli zombie Scrivete nei commenti Questo è uno E poi non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Per far sentire meglio Stas Ok ragazzi? 20 minutes later Stas stai bene? Raffario Stas non sta bene? Sto bene Sto bene Sta bene Lasciatelo in pace Ma tutto bene Fa solo un po' freddo qui Non c'è Freddo? Stas il tuo viso è impallidito Sei sicuro di stare bene? Guarda come trema Niente Sto bene Lasciatemi in pace Aspetta Stas Dobbiamo metterti alla prova Ora faremo un piccolo test Capito? Dai non peggioreremo così la situazione Supera il test ed è finita Allora ragazzi Come ho detto prima Coloro che vengono infettati agli zombie Hanno reazioni ridotte e lentezza nei movimenti Quindi il primo test sarà per la reazione e il movimento Quindi Forza Stas Alzati in fretta Controlliamo Forza Stas Alzati Alzati Andiamo Allora tu stai qui Noi ti lanciamo la palla e tu la prendi Ok? Va bene Stas è pronto? Va bene Sì pronto Oh mio dio Ragazzi è un tempo in reazione molto lento Ora Il secondo test Test di velocità Ok Stas fai quello che faccio io Ok? Cominciamo Ehm 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 Ancora 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 Andiamo Stas insieme Uno Più veloce Da solo Credo che abbia sintomi di cui abbiamo parlato Ragazzi ha sicuramente questi sintomi Forza un altro test Forza facciamo un altro test Timon Cosa cosa Ragazzi Credo che stiamo perdendo Stas ma so cosa fare Cosa fare cosa fare Cospirlo in testa così per fargli saltare via il cervello Sei stupido Con tutta la sua stupidità No Raffario sei cattivo Non è necessario Ricontrolliamo per vedere se ci siamo sbagliati Ok? Va bene Forse Ecco Raffario sembra peggiorare Guardatelo Andiamo a dare un'occhiata Sì Oh mio dio Sembra di sì Oh mio dio guardate gli stanno venendo le vene Ok ragazzi continuiamo con il test numero 2 Lo metteremo alla prova con questo storditore elettrico Perchè un storditore? Sei stupido? Perchè ho letto che gli zombie non provano dolore Ok ci siamo Ragazzi non credo che senta nulla Probabilmente non funziona questa cosa qui È rotta al 100% 100% ragazzi Ve lo dico io No Raffario funziona Dai colpiscimi Colpiscimi qui Eh se non vuoi degli acqua allora lo farò io Forza odisseo Raffario Raffario Che cosa hai fatto odisseo sei scemo L'ha chiesto in lui Dammi qui Ragazzi in realtà funziona Raffario cosa stai facendo? Perché fai così? Ragazzi ve lo dico sta iniziando la guerra una grande guerra Ma noi non ci arrendiamo non ci arrenderemo mai Cosa vuoi dire? Abbiamo perso Stas Ora non è Stas È un come si chiama vampiro zombie che cos'è non lo so No Raffario non è ancora certo che cos'è? Guarda ho dei proiettili d'argento Proiettili d'argento? A cosa ti servono? Si proiettili conosco questo genere di cose Hanno paura l'argento uccide gli zombie No Raffario è per i lupi mannari sei scemo Non è niente di grave uccide tutti Cosa vuoi dire? No fermati Raffario è tuo figlio Aspetta non è ancora certo Possiamo riportarlo alla normalità Aspetta facciamo un altro test Hai un altro test? Sì ci sono molti altri test vediamo controlliamo Dobbiamo essere sicuri Allora dobbiamo sforzarci e fare del nostro meglio Certo Perché siamo una famiglia Solo gelarvi Sì Sì siamo una famiglia Ragazzi abbiamo un test anche per voi Iscrivetevi ragazzi per mostrare il vostro sostegno a Stas Ragazzi ok? Calmati Andiamo a vedere Raffario Andiamo Stas sediti Sediti qui Sediti Allora Ragazzi in questo test vedremo come funziona il cervello di Stas Speriamo che funzioni bene E se non funzionasse bene allora qualcosa è andato storto Quindi gli daremo dei Lego e gli diremo di costruire una casa ragazzi Allora Stas prendi il Lego mettilo insieme e costruisci una casa Ma che stai facendo? No non fangiarlo Oh no Le cose vanno male No Odissea fai vedere qualcosa tu Eh guarda Come guidiamo Vediamo giù e facciamo così No cosa stai facendo Cosa stai facendo E' malato Odissea vattene Ragazzi ragazzi cosa è successo Vai via Stas Stiamo perdendo Stas No dobbiamo andare Dobbiamo fare qualcosa ragazzi Aaaaaaah Abbiamo perso Stas Sai che non è Stas ora È uno zombie E quello che possiamo fare è fermarlo Pugnalarlo al cuore di Stas Sei scemo, sei scemo È per i vampiri, Raffario Non è un grosso problema Andiamo a vedere No, Raffario, no, per favore Solo che non capisci, ok? Salveremo Stas, salveremo Stas Perché non si sente bene Capisci? Proviamo a fare un altro test Vediamo se possiamo essere certi Con certezza Ti prego, Raffario, dammelo Raffario, lascia perdere, dai Ma questo è l'ultimo, sai? Sì, ok È l'ultimo, facciamo il test E dopo, e dopo, basta Ok ragazzi Ora vedremo cosa mangia Stas Se Stas sceglie di mangiare l'hamburger Va bene Ma se sceglie di mangiare il cervello Allora tutto è andato storto È diventato uno zombie Mangia Stas Mangia, mangia Mangia l'hamburger L'hamburger, l'hamburger L'hamburger, sì, sì Cosa stai facendo? No, non rompe No, no Che stai facendo? È una brutta cosa No, no Oh mio Dio Penso che gli piaccia il cervello Ragazzi Raffario sta impassendo Vuole fare qualcosa di brutto Stas È per questo che mi è venuta l'idea Di andare a cercare su Inter Perché una soluzione ci deve essere Ragazzi, dobbiamo cercarne un'altra Basta, basta Non è più possibile fare di lui un essere umano No, Raffario Ho trovato un modo per curare Stas E diventerà un essere umano normale La soluzione è una Deve ricordare le abitudini umani che facciamo ogni giorno Ma è molto difficile Ci vorrà molto tempo Perché il cervello di Stas Funzione affatto Adesso lo vado a dire a Raffario e Dimon Oh mio Dio Sento l'affario di Dimon Chiellizia Vado a dir loro la soluzione C'è C'è sempre la soluzione Qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Non c'è una soluzione Ragazzi C'è una soluzione per riportarlo indietro Cosa vuoi dire? Come fai a saperlo? L'ho visto su Internet Puoi dircelo? Naturalmente Agli zombie piace la carne e il sangue Vero? Sì, sì, giusto Esatto Lo inganneremo E come lo inganniamo? Non capisco Beh, spiegacelo Versiamo il succo di bambodoro in un bicchiere Perché il succo di bambodoro? Perché è rosso e assomiglia al sangue Inoltre Mettiamo un occhio E una caramella e gelatina Non è reale Non aver paura E nell'altro bicchiere Versiamo il succo normale Ed è così che lo inganniamo Ok, oggi stai E dopo cosa facciamo? E poi Appena inizierà a ricordare il vero sapore del succo Forse inizierà a diventare umano Ma ci vuole un grande sforzo Per farlo diventare un essere umano Grande odisseo Andiamo Forza, andiamo Facciamo Non quello Metti quello Metti quello, sì Bevi, 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 bevi Va bene, va bene Oh no, non c'è problema Questo è un bene, bene Almeno un po' Bevi, 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 bevi Forza, forza, forza Forza, forza, forza Dai, ce la puoi fare Stas, ce la puoi fare Sì, sì, sì Sì, amico, sì Bravo È contento, sì Buon fatto Bravo Stas, inizia lentamente Forza Sì, lentamente ragazzi Sta imparando a farlo da solo Sta tornando Stas, devi imparare a mangiare come un umano Capito? Questo se vuoi essere un essere umano Com'erò a fare? Da fario Dai, è la forza, dai Da solo, da solo Sì, prendilo, sì No, no, no Piano, 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 piano Bravo, bravo Non c'è problema Vai, vai Dai, chiudi la bocca Oh, gli piace, gli piace Gli piace Ragazzi Ragazzi Dai, dai Adesso Ancora, ancora Ne voglio ancora Sì, dai, dai Sì Sì, amico Bravo Bravo, bravo Ancora, ancora Sì Forza Andiamo No, no Non ne voglio Tu, tu mangi Lo voglio anch'io Ottimo Ottimo Questo è un vero uomo Forza, forza Bravo Il mio ragazzo Il mio ragazzo Dai, dai, dai Forza Bravo 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 Sì Ben fatto ragazzo mio Sì Ancora, ancora Porta di più Di più Raffaello Andiamo ragazzi Forza, forza Sì Bravo Ben fatto Sì Amico mio Grazie a voi ragazzi Che mi avete aiutato Timon Questo video dovrebbe essere pubblicato su YouTube Così tutti sapranno cosa fare Sì Questo aiuterebbe tutto il mondo Ragazzi condividete questo video per aiutare il mondo intero Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace Iscrivetevi ragazzi e faremo ancora tanti video così Stai attento Inoltre non mette la campanella per non perdervi nessun video E ciao 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 Ciao